Buongiorno a tutti sono Gaia Guilizia e per il Festival internazionale di poesia di Milano in occasione del giorno della poesia 2020 dono la poesia canto dipinto di cui sono autrice e senza desistenza spiri creature gravide di bellezza tue figlie emanazione in parole cantanti nell'etere le ricevo incarno soffio sono i tuffi profondi nelle grotte del mare interno sono i grandi viaggi attraverso cose minute è la voce dipinta di gratitudine per l'abbraccio di ogni nota vivente sempre in canto io canto poesia grazie è un invito sempre ogni giorno viviamo e condividiamo in poesia